Allora, dobbiamo un attimo parlare del Dark Rock Pro 4 di Be Quiet Il primo dissipatore ad aria che io abbia mai montato Intendo dissipatore ad aria di livello professionale Perché questo dissipatore è seriamente qualcosa che non mi aspettavo sarebbe stato al pari O addirittura superiore rispetto a un dissipatore a liquido Capita anche a voi di sentirvi osservati qualche volta Sapete, dato che passiamo più del 90% del nostro tempo connessi ad internet È molto semplice per qualcuno utilizzare il nostro IP per backtracciarci E magari risalire a noi per osservarci o forse per rubare qualche dato sensibile Ed ecco perché voi dovreste utilizzare Surfshark Il VPN sicuro, il VPN semplice, il VPN economico Che vi terrà protetti quando navigate su internet Oltretutto, oltre a proteggervi da persone che sono magari malintenzionate Surfshark vi permette, grazie alla sua rete privata virtuale Di usufruire di contenuti che in Italia, per leggi di copyright magari, non sono disponibili Mi raccomando, in descrizione c'è un link che dovrete cliccare E potrete avere l'83% di sconto su un abbonamento E tre mesi gratis di abbonamento appunto a Surfshark Ragazzi, non so cosa dire Surfshark lo conosciamo tutti per un buon motivo Semplice Veloce Veloce Sicuro Per cui, andate in descrizione E cominciate a navigare sicuri Grazie a Surfshark Come è successo che io abbia deciso di installare un dissipatore ad aria Su uno dei processori più caldi che io abbia in casa Un Ryzen 7 5800X Molto semplicemente, il mio Fractal Design Celsius S36 Dopo oltre 4 anni di servizio Ha cominciato a fare un po' di bizze C'è da dire che il prodotto in sé è ottimo Funziona decisamente bene quando tenuto in ottime condizioni Però ovviamente dopo 4 anni di utilizzo intenso Perché è stato messo su un 3700X, su un 3950X, su un 5900X, 5950 Ci ho fatto un sacco di test con quel dissipatore A un certo punto ha cominciato a dare dei segnali di surriscaldamento Senza che il PC fosse messo sotto sforzo nella build che ho costruito a mio padre Quindi ho detto, perfetto, nessun problema Vediamo un pochettino di cambiare del tutto dissipatore E neanche se avessi voluto farlo apposta BQI è testata così gentile da volermi mandare un Dark Rock Pro 4 Cosa c'è da dire riguardo questo dissipatore? 1. È la prima volta che io montavo un dissipatore ad aria Quindi non sapevo effettivamente cosa aspettarmi Per quanto riguarda qualità costruttiva Robustezza dei materiali E dotazione del dissipatore Tutto ottimo Stiamo parlando di un dissipatore ad aria double tower Con 7 heatsink per torre Stiamo parlando di una dotazione di due ventole Una Silent Wing 3 da 12 cm Quindi 120 mm E una da 135 mm Quella già preinstallata è da 12 mm Quella da 135 va messa tra le due torri Per aumentare la capacità dissipante Ovviamente entrambe sono PWM Significa che potete controllare tramite una curva le ventole E credetemi Io non avevo idea che le Silent Wing Sapevo che le Silent Wing fossero silenziose Perché altrimenti non si sarebbero chiamate Silent Non avevo idea che entrambe mandate Alla velocità quasi massima O comunque intorno all'80% Fossero praticamente inudibili Io ho provato il dissipatore in live L'ho montato in live Il link è in descrizione Se volete venire a vedere qualche esperimento di questi ogni tanto E ho dovuto controllare più volte che le ventole girassero Non perché le temperature fossero alte Ma perché io non riuscivo assolutamente a sentire Anche senza le cuffie Le ventole girare Quindi porca miseria Tanta tanta roba Il dissipatore è alto 16.3 cm Quindi attenzione per quanto riguarda la clearance O comunque la compatibilità con dei case che non sono estremamente doppi Io vedrei benissimo questo dissipatore O su una test bench O comunque su un case mini ITX Tipo l'Hydra Mamma mia quanto è bello l'Hydra Per magari il mio secondo PC da streaming Perché non sarebbe in effetti affatto male La cosa interessante è che il Dark Rock Pro 4 è compatibile Sia con tutti i socket AMD Sia con tutti i socket Intel Anche il 1700 Come specificato dal foglietto di istruzioni Come specificato dal sito E a quanto pare La piastra di alluminio posta al di sotto del dissipatore Sembra essere abbastanza Per dissipare come si deve Anche il 12900K Perché questo dissipatore Ha un TDP di 250W 250W significa che riesce a dissipare 250W Di calore Quindi non stento a crederlo Perché oltretutto pesa un chilo e tre Un chilo No, un chilo e cento grammi se non erro Di alluminio praticamente E stiamo parlando di un prodotto estremamente ben bilanciato Cioè se io lo metto in mano Non sento che tira da una parte o dall'altra Il che è ottimo quando dovete andare a fissare il tutto alla scheda madre Con un sistema di montaggio Che fondamentalmente Anche per me Che io sono stato praticamente un completo idiota Nel montarlo Lo ammetto perché sono abituato ai dissipatori al liquido È stato relativamente semplice Personalmente parlando Avrei optato per qualcosa di diverso Per quanto riguarda il fissaggio alla scheda madre Perché come sicuramente state vedendo In qualche clip Bisogna svitare un tappetto qui Infilare il cacciavite qui Farlo scendere lungo tutto il canale E poi arrivare qui ad una vite Che poi andrà a fissare il tutto alla scheda madre Ovviamente farlo all'interno di un pc Comincia ad essere leggerissimamente complicato Ma vi ripeto Sono io che sono un nabbo Nel montare dissipatore d'aria Perché uno così non l'avevo mai montato Quindi boh magari è solo una questione di pratica Parlando di temperature Come ho detto durante il test Io non avevo capito che le ventole stessero girando Perché praticamente Be Quiet ci dice che al massimo della velocità Le ventole Le ventole raggiungono i 24.3 decibel di rumorosità Ora io non ho strumenti per misurare la rumorosità Ma fidatevi Fidatevi che io Da un'azienda chiamata Be Quiet Che significa fa silenzio Sapevo che le prestazioni acustiche fossero buone Ma non così tanto Perché il pc Ha un livello di rumorosità Veramente quasi inudibile Oltretutto il case era totalmente aperto Quando ho fatto i test Questo dissipatore riesce a tenere a bada Un Ryzen 7 5800X Al quale non è stato fatto undervolting Certo era tutto a stock Ma sappiamo che il Ryzen 7 5800X Anche stock riesce a raggiungere temperature altissime Col mio fractal design Celsius S36 sarà perché comunque aveva dei problemini in partenza E quindi mi stava abbandonando Io raggiungevo gli 85 gradi su Cinebench Con questo dissipatore Quindi con una rumorosità Ve l'ho detto Quasi pari all'inudibile Siamo arrivati a un massimo di 79 gradi Con il test multicore su Cinebench Per quanto dovete andare a testare la CPU Fondamentalmente esistono due test Uno è Cinebench R15, R23 Io credo sempre che la versione più aggiornata sia la migliore R23 Esiste Prime 95 Prime 95 non ce l'avevo Però Cinebench Credetemi Riesce veramente a spremere Ogni tipo di performance Da qualsiasi CPU E un Ryzen 7 5800X Sappiamo che è una CPU Che dà delle ottime performance Ma a livello termico non è proprio delle migliori E ve l'ho detto Questo dissipatore riesce tranquillamente a dissiparlo In single core Credo che abbiamo raggiunto i 50 gradi 50 gradi Quindi più o meno In game A meno che non siate giocando a Warzone In game potete raggiungere delle ottime temperature Con questo dissipatore Ad aria Che costa circa un'ottantina di euro Vi ripeto E pratica Voi non lo sentite quando parte Se lo sparate al massimo E magari avete il case aperto Sentite un leggero Ma nemmeno alla fine Cioè E' fatto proprio bene E' fatto davvero davvero bene Poi il design tutto nero C'è da dire che è abbinabile a qualsiasi tipo di build Quindi Davvero 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 Promosso Grazie mille a Be Quiet Per aver mandato questo dissipatore E Raga Attenzione Attenzione Nel prossimo video Parleremo di questo Ho allargato il loop GPU CPU Ok Grazie ai prodotti di Alphacool E Rimanete sintonizzati Perché Ne parlerò un attimo E vedremo un po' più da vicino Come il tutto si comporta Grazie mille per aver seguito il video Cosa ne pensate del Dark Rock Pro 4? Sinceramente parlando Sarei curioso di fare test Di comparativa Con altri dissipatori ad aria Magari sul 5800X appunto E nulla Sono decisamente soddisfatto Di tutto il pacchetto Che Be Quiet Vi manda a casa Quindi Acquisto decisamente Consigliato Grazie ancora a Be Quiet In descrizione C'è un link Affiliato a Amazon Se volete acquistare Il dissipatore E aiutare il canale Detto ciò Io vi ringrazio E ci vediamo alla prossima Mi raccomando Fate i bravi Ciao ciao belli Ciao belli